E ci occupiamo ora delle ultime novità in casa poste italiane. Si arricchisce infatti l'offerta di servizi dell'app BancoPosta. Infatti è disponibile un nuovo servizio che permette ai correntisti di visualizzare tramite l'app il saldo e la lista dei movimenti, delle carte e dei conti correnti aperti anche presso altre banche. Per attivare il servizio di informazione Account Information Service in questa prima fase disponibile con 10 istituti bancari basta entrare nella sezione Conti e carte altre banche ed eseguire pochissimi e semplici passaggi. Con questo nuovo servizio Poste Italiane conferma l'obiettivo di offrire ai clienti servizi digitali sempre più efficienti per affiancare al canale fisico più grande d'Italia un'alternativa di servizi in mobilità.